Si prega di sostenere il canale. Grazie. Devi fare le mosse giuste per raggiungere il tuo obiettivo. Le persone più forti non sono necessariamente quelle fisicamente più potenti, ma sono coloro che sanno adattarsi ai cambiamenti e rialzarsi dopo le cadute. Non si può cambiare il vento, ma si può cambiare la direzione delle proprie vele. Le cose più importanti nella vita non sono cose materiali, ma le persone che ti circondano. La vita non è una corsa contro gli altri, ma una lenta e costante ricerca di se stessi. Non aspettare che le cose accadano, vai là fuori e falle accadere. Non importa quanto sei bravo, ci saranno sempre ostacoli lungo la strada. La sfida consiste nel superarli e continuare ad andare avanti. La felicità non si trova nell'ottenimento di ciò che si desidera, ma nell'apprezzare ciò che si ha. Non rinunciare ai tuoi sogni solo perché sembrano difficili da raggiungere. Spingiti oltre i tuoi limiti e vedrai quanto sei capace di fare. Ogni giorno è una nuova opportunità per iniziare di nuovo e lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più. Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno. Non permettere agli altri di definire il tuo valore, sei tu a decidere quanto vali. La vita è come un'opera d'arte. Dipende da te renderla straordinaria. Non importa quanti errori hai commesso nel passato, ciò che conta è quello che fai nel presente per migliorare il tuo futuro. Non esistono scorciatoie per raggiungere la felicità. Devi percorre il tuo tragitto e affrontare le sfide lungo il percorso. Non giudicare le persone in base alle apparenze. Ciò che conta veramente è ciò che hanno dentro. Le circostanze non definiscono la tua vita. È la tua reazione ad esse che fa la differenza. Non cercare la perfezione. Cerca piuttosto di migliorarti ogni giorno nella persona che sei. Se non provi mai, non saprai mai cosa potresti realizzare. La vita è come un puzzle. Ogni esperienza si adatta a un pezzo che forma una figura più grande. Le tue azioni parlano più delle tue parole. Quindi, assicurati che le tue azioni riflettano i tuoi valori. Non aspettare che qualcuno ti dia il permesso di scegliere la tua strada. Prendi il controllo e vai avanti. Ciò che temi di più è spesso ciò di cui hai più bisogno per crescere. Non perderti nell'affannarsi di guadagnare denaro. La vera ricchezza risiede nelle esperienze che accumuli e nelle persone che incontri. Non rimpiangere le scelte che hai fatto. Impara da esse e continua a progredire. Non far passare la vita guardando nel retrovisore. Concentrati sulla strada davanti a te e goditi il viaggio. La vita è come un libro. Ogni giorno è un capitolo da scrivere con le tue azioni e le tue scelte. Non correre dietro al successo. Crealo con perseveranza, impegno e passione. Non importa quanto siate bravi a piantare semi, se non li annaffiate non cresceranno mai. Le persone che ti circondano influenzano chi sei. Scegli saggiamente le persone che porti nel tuo cammino. La vita può essere dura, ma tu sei più forte di quanto pensi. Non arrenderti mai. Tutto ciò che accade in vita nostra ha un significato, anche se a volte non lo vediamo immediatamente. Non guardare alle persone più fortunate di te. Concentrati su ciò che puoi fare per migliorare la tua situazione. Il rispetto verso se stessi e verso gli altri è la chiave per costruire relazioni sane e durature. La vita è troppo breve per sprecarla con rancore e risentimenti. Sii disposto a perdonare e passa oltre. Non permettere agli altri di decidere cosa puoi o non puoi fare. Se credi in te stesso, puoi realizzare tutto ciò che desideri. Non concentrarti sui tuoi difetti. Concentra invece la tua energia sui tuoi punti forti e su come puoi usarli per fare la differenza. Ciò che sembra un fallimento può essere solo un'opportunità di imparare e crescere. Non sprecare energie in gelosie e invidie. Concentra la tua forza nel migliorare te stesso ogni giorno. L'onestà è un pilastro fondamentale nelle relazioni umane. Sii sempre sincero con te stesso e con gli altri. Non rimanere bloccato nel passato. Sii aperto al cambiamento e sfrutta tutte le opportunità che ti si presentano. Non cercare di piacere a tutti. Sii te stesso e attira le persone che ti apprezzano per ciò che sei. La pazienza è una virtù che vale la pena coltivare. Non tutto arriva immediatamente, ma con impegno e dedizione si possono ottenere grandi risultati. Non permettere che le critiche degli altri ti abbattano. Impara a distinguere le critiche costruttive da quelle distruttive e usa le prime per crescere. Non porsi limiti. Sii audace e cerca di superare ogni aspettativa che hai di... Si prega di sostenere il canale. Grazie.